Ma io so come... Metti un line! Grazie della risposta Non ho capito Poi lo chiudi con la porta blindata Eeeh Esatto esatto Proprio Tipo, probabilmente prendi la mazza Chiodata E ogni volta che cercano di scappare Ogni volta che cercano di scappare Gli dai una mazza nelle gambe Che veramente non possono scappare più 3 2 1 Promeadeast Ragazzi E se io volevo andare A promeade ovest Non puoi Promeadeast E se io volevo uccidere E' un bambino Va le carabine trovo le carabine Posso fare Biddy body bidet e poi far splodere le auto Giavi Giavi vorresti essere ucciso con loro Se tu ma esplodi Via 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 Chi vuole un pomodoro per colazione? Io no 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 Io non mi ricordo i comandi di altri giochi Io no Lo so Grazie mille Grazie 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 Veramente Ci sembra... Ci sembra io da me oi Ferni? Non direi che è Ferni? Lamparato Lamparata Un po' nessuna Oh 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 Un lampo su dario oh 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 & No 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 vieni qua Ma che mirò ragazzi Ma che mirò E così si scopre che già è la cosa Dove siete voi? Arrivo Sì no ne chillate tutti però Che io ho anche la minaccia al massimo Oh lo scarlo vedete Ma ci smette che adesso che ricarico mi spara al mondo Comunque veramente se era vero Siamo già ucciso Siamo ucciso il tuo personaggio Già vi laghi un po' diciamo Eh io non lo sento laggare Forza se tu Ma non è vero Scusa come è Samu che lagga Però Forza se però io lo sento Forza se stai laggando Senti tutti laggare o giove? Tutto la giove Buoh Ma no c'è monotone Monotone Chi dove quando come Do stai te Oh questo mi spatterà al seguri Dov'è? A terra C'è un altro No l'avevo notato Raga 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 c'è un altro Eh Giovi rovi 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 Scherzavo Eh ma che Due palle Che bello che è il culag Se fosse a risplodere 50 Ho fatto double kill E io sono impiato solo però Mi è arrivato a spritare la mano Non c'è più nessuno Dall'altra parte Dall'altra parte C'è Vladimir E c'è il dracco Ah ti prego tutto tra i cecchini La balestra Vabbè It's the new arm of the vita Troppo forte Dove a terra? L'arma che vuoi scioppa Stai zitto Eh io l'ho Io l'ho arato Io l'ho aratro Io l'ho amato Io l'ho arato Io l'ho caccato Io l'ho mangiato Io l'ho Quegli scommetti che lancio Care tipo Lì Ok adesso Io non so cosa dire Giovi è una brava persona Esatto esatto Eh Scherzavo Fa schifo Quando ti accorgi di avere una cavalletta sul braccio Eh Non è una cavalletta Sul letto Ma l'ho sentita quello Sì No Mi ha mutato Perché? Io non l'ho mutato comunque Ha detto che Non l'ho mutato Ah L'hai mutato Ah E pal sta ancora facendo un video Sì Perché? Sì Ma perché non lo smutti? Io l'ho smutata Ma vai a cagare Valla pala 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 come è che ti senti nei video a sto punto quindi premi share no ho sbagliato devo pingare questo punto qui qui cade il lancio aspetta lo stai facendo aspetta un attimo in teoria c'è scritto condivisione auto ah era l'altro incrocio vabbè dai ho sbagliato incrocio ah non mi carico vabbè devi fare condivisione auto e metti tutto in auto ma non possiamo ma non possiamo ok è per una persona cioè per un team iolo mi sono presentato per dopo mi capisci quello che ho detto dai no il resto è bene perchè già vi è già stato rissato una volta non ne sono stato rissato ho vinto alcun è vero è vero è vero e perchè fenni aveva un minimo di più soldi ora siamo a 1.600 2.700 e non hai preso di nuovo il tutto 2.700 ne mancano altri 2.000 però è stato il suo nome no 1.600 1.600 però la mia matematica è i palpeni chiede se può andare a me perchè lo chiede a me scusate perchè sei sua madre ah allora si ha detto si ha detto si andiamo adesso soldi 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 si sei iple dietro 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 coso ma chi l'aveva viste ma chi l'aveva viste non è meglio si ha scuola i soldi per un elemento così inutile per la squadra cioè war giovani questo aumento ci sta ammazzando anche la ma che questo tutti i pelli con i C4 che panno ecco questo è il karma il karma ma tutti io li becco membri inutili per la squadra boom esplode Quattro partite di fila Ma state ferme Boom Mi quanta mira Aia Aia Ouch Ma che Per me lo permette il fight Non è vero Lui ha la mira di Oh evasione imminente Resistete bimbi Perché Perché tra un po' veniamo Inversate anche noi In alto vedi Evasione imminente Vuol dire Che tutte le scuole che morti Vengono ad animare I am di nuovo in gioco Bitches Rotto shield No Esplodi 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 Non ho più una gola No Ah tu usi l'MP7 Con l'HDR Sì Tu ciò però Berrò Momento video ASMR No no Momento video ASMR Ma ancora c'è il video Però Ok Non so Non so Un Un Perfetto Momento ASMR Più un biscotto Un biscotto? Per tirare il palmento Esatto Ah vabbè Non ce l'ho da dire Certamente Se tu metti un biscotto in bocca Ti esplode? Eh pure a me In che senso? Non è Savo? Ma A me piacciono i cosi neri Like Mi schiamano Quanti ne hai? Sì Sì Ma Ma quali proietti? A me mi piacciono i cosi neri No I big cioccolato E cos'è? Che cosa abbiamo Sì 원�ine i biscotti Ok Ahiano Sì Sono Sì Sì C'è dall'altro lato inizia non te li ho fregati siiii ce n'erano altri e tu dammi soldi, basta si trova so da buonareggio c'è il tuo posto preferito ci sono un sacco dei tuoi amici erano i cessi poi si è auto insultato ah be ma tolghi o miri santa il laser questo è il laser mirato o smirato è quello smirato non lo so io l'ho messo venga 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 il po' che sta facendo il video è inutile ah ok ok si spiega tutto ah dietro di me i players anche davanti a dei players se non l'avevi visti giovi l'aveva detto che erano qui ma quando siamo forti perché è stoppato il video ma forse hanno un po' scelto giovi però il video finisce qui che avvio 3 stessi 1 2 3 4 5 6 6 6 7 9 10